c ciao a tutti ragazzi e bentornati questo nuovo video per oggi faremo una sfida io ho messo le skin casuale se tipo ci esce Mida andiamo all'agenzia se ci esce Miascolo andiamo alla Miascolo una sfida molto divertente speriamo di poterla vincere speriamo bene allora vediamo che skin vediamo la skin che ci esce vediamo la skin che ci esce Miascolo si uscite maschi andiamo ad Miascolo vabbè dai Miascolo è buono scendo qui per trovare le armi perché Miascolo scuaglia Allora se vi piace se vi piacciono questi questi sfide e te dai che commentare se devo ancora scendiamo speriamo che ci sia un'arma in questa casa allora mi ascolò dov'è fuori o dentro? allora mi ascolto dentro allora mi ascolto dentro allora mi ascolto dentro mi ascolto mi ascolto mamma mia pensavo che era finita per me allora stavolta è andata bene diciamo infatti non posso andare a prenderlo scusate che mi sento piano abbiamo sconfitto mi ascolto ora cercheremo di vincere la partita comunque l'arma di mi ascolò sciotta è troppo forte è troppo forte allora andiamo ora al lago si materiali il led ce l'abbiamo anzi per iniziare per iniziare è molto buono quello che abbiamo mi mancava lo shield vediamo se c'è gianta si le allora io buscio come va va è l'ulto perciò correndo da un po' io lo preferisco il mondo lo so è un po' strano però è così c'è il mondo se lo sai usare è forte buono quello lo so siamo fuori il lotto è buono quello che ho c'è gente qui lo so lo so lo so lo so lo so mi ha squagliato con lo scarro lo so mi vuole far cadere si vabbè lo so qua non è scarso lo so 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 se non mi sbaglio mi aveva lanciato il medikit lo so lo so lo so lo so lo so lo so ecco le bande speriamo che non mi vede nessuno mi sta venendo a pushare lo so non ho materiali eh non ho materiali questo qua è forte gg vabbè ragazzi mi asco l'abbiamo dovilato se volete altri video di questo genere scrivete nei commenti bene ciao ciao ciao